Vediamo un po' come si lavora la mozzarella. A mani nude si mozza la pasta. Ecco da dove deriva il nome, mozzare a mano. Sapete fare una treccia? Vediamo come si fa. Ed ecco a voi la treccia. Il regno delle bufale. Alle otto musica classica per non farle stressare e danneggiare il latte. Un po' di massaggi e relax. E le signore bufale fanno la coda per essere munte. La macchina fa davvero tutto. Conta le gocce e tramite un'analisi computerizzata controlla la qualità del latte. Dopodiché si può mangiare. Dopodiché si può mangiare. Grazie a tutti